Posso dire, Pino, una cosa? Com'è il documento musicale? No, volevo dire che molte volte io ho paura di prendermi troppo sul serio allora sono abituato a esorcizzare con una risata, con una battuta, dei sentimenti, delle emozioni che rasendono il luogo comune, almeno io ho paura che possano essere al limite del luogo comune però, nonostante poi la mia ambizione, la mia aspirazione sia quella di essere accettata, apprezzata in tutta Italia come credo Pino, chiunque faccia questo tipo di lavoro io stasera voglio correre il rischio di cadere in un luogo comune dedicando questa piccola cosa, poesia chiamiamola, a un posto speciale che è Napoli e a San Giorgio a Cremano che è il posto dove io sono nato Io lo voglio fare Mi ha sforzo Bravo Mi ha sforzo Sì Sforzo Grazie Grazie Grazie